Vittoria veramente eccezionale, un premio allo spirito di sacrificio di questa squadra, alla dedizione con cui si allena e con cui apprende e la voglia di fare i punti. Chiaramente, come penso io, dobbiamo essere pazienti, rimanere in partita fino alla fine e oggi infatti abbiamo vinto verso la fine della partita. Non dobbiamo essere frettolosi perché comunque sì, dobbiamo vincere, però dobbiamo sempre rimanere in partita. Diciamo anche vittoria meritata perché comunque Odegaard qualche minuto prima un gol ce l'ha sembrato anche abbastanza regolare, l'aveva trovato. Assolutamente, al di là del gol annulato Odegaard, poi credo che abbiamo sicuramente avuto delle occasioni un pochino più nitide noi, niente di eccezionale, ma anche loro onestamente non mi sembra che noi abbiamo sofferto più di tanto. Quindi è stata una partita molto tattica, lo sapevamo, molto fisica soprattutto, quindi faccio i complimenti veramente ai ragazzi per la prestazione. Ti chiedo l'ultima cosa, Flash, tu che a Pescara sei un idolo, chi più di Marco Sanzovini può lanciare un messaggio? Quanto ci credete in questa salvezza? No, io non lancio nessun messaggio, posso semplicemente dire che la squadra ci crede tantissimo e oggi credo l'abbia dimostrato. Quindi dobbiamo prendere questa vittoria oltre i tre punti come un punto di partenza per far sì di dare una continuità che manca da parecchia.